11 kg di marijuana pronta per essere spacciata sull'isola di Lampedusa, sequestrata dai carabinieri a Portembedocle e arrestato il corriere. Si tratta del ristoratore Raffaele Piazza, 29 anni, originario di Favara ma residente sull'isola agrigentina. L'operazione, che ha portato al maxisequestro, è stata brillantemente condotta dai carabinieri della tenenza di Favara, congiuntamente ai militari del comando compagnia di Agrigento. L'uomo, noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e sempre per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato bloccato all'interno del porto embedoclino, mentre si accingeva ad imbarcare il camion carico di droga all'interno del traghetto. Perquisito il mezzo, i militari, abilmente occultati nel cassone, hanno trovato un grosso pacco all'interno del quale c'erano cinque sacchetti, convenzionati e sigillati, contenenti due chili e duecento grammi di marijuana ciascuno. Il sequestro di oggi, ha detto fiero il comandante della compagnia carabinieri di Agrigento, Giuseppe Asti, è uno dei sequestri più importanti degli ultimi anni, sia per quantità che per destinazione. Con l'arresto di piazza Raffaele, ha continuato il capitano, è stato posto in evidenza uno dei principali canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti per gli speciatori che operano sull'isola di Lampedusa. Con molta probabilità, ha concluso Asti, il carico bloccato avrebbe costituito una cospicua riserva per far fronte all'incremento del consumo motivato dall'approssimarsi della stagione estiva. Raffaele Piazza attualmente si trova recluso presso il carcere Petrusa di Agrigento, in attesa di giudizio con rito direttissimo.